Rettificare la tempistica della concessione demaniale per la messa in funzione del rigassificatore di Piombino è la richiesta che l'autorità del porto fa a Snam, con l'invito a riportarla a tre anni e, al commissario Gianni, un definitivo chiarimento sulla durata della richiesta di concessione, avvisando fin da ora che, in mancanza di questo, l'autorità non potrà che emanare un motivato parere negativo. È l'ennesimo atto del braccio di ferlo per la realizzazione dell'infrastruttura nel porto di Piombino, un documento indirizzato al commissario per la realizzazione del rigassificatore, il presidente Gianni, e alla ministra della transizione ecologica, Roberto Cingolani. Luciano Guerrieri, presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirreno settentrionale, ricorda che il posizionamento dell'opera è stato proposto da Snam sulla banchina Est, già assegnata alla Piombino Industrie Marittime fino al 2041 e che questo impianto per attività di demolizione navale, costruzione, manutenzione e refitting, costituisce uno dei progetti qualificanti del piano di riconversione e di riqualificazione industriale elaborato da Invitalia, pertanto viene considerato dalla legge di pubblica utilità urgente e indifferibile. Per questo la sovrapposizione con l'autorizzazione per il rigassificatore andrebbe a creare un conflitto non di poco conto.